Siamo qui a Cortina Incontro con Mirta Merlino per parlare di scuola, ma lei cosa pensa della riforma Gelmini? Beh, è ancora abbastanza presto da dirsi. Alcune cose mi piacciono, mi piace per esempio l'idea che bisogna avere tutti i sei per fare esami di maturità, mi piace l'idea che gli esami diventino più severi, insomma che ci sia un po' di merito dentro da scuola. Poi altre cose, forse meno, il maestro unico bisognerà vedere come funzionerà. E poi non mi piace soprattutto il clima che accompagna il dibattito sulla scuola, questo clima così teso in cui tutti sono contro tutti, questo lo trovo veramente molto dannoso per l'intero paese. Invece come giornalista economica mi puoi dire la sua opinione sul modo in cui i mezzi di informazione hanno trattato il tema della crisi in quest'ultimo periodo? Beh, in Italia c'è un dibattito abbastanza autoreferenziale, trovo. Cioè tutte le volte che prendo in mano un giornale straniero mi sembra che ci sia una visione un po' più di insieme. L'idea che si possa parlare di crisi a livello italiano è un'idea molto sbagliata perché la crisi è globale e come tale va affrontata. A questo proposito, anche sulla scuola è interessante notare come in tutti i grandi pacchetti anticrisi dei paesi dagli Stati Uniti alla Cina, al Canada, ci sono tanti soldi per l'istruzione. Bisogna ripartire dalla scuola per rilanciare l'economia. In Italia temo che stiamo facendo un po' il contrario. Questo potrebbe essere un grave errore per il futuro. Parliamo invece del giornalismo italiano nel suo insieme. Nell'ultimo periodo ci sono stati un po' di problemi, un po' di disinformazione anche pensiamo all'inchiesta di Bari. Lei come pensa che sia lo stato di salute dell'informazione? Pessimo, devo dire la verità. Non mi piacciono per niente i giornali italiani in questo momento. Mi sembra tutta una guerra a chi la spara più grossa, con l'idea che lo scandalo è l'unica cosa che fa a vendere copie, che attrae il lettore, con pochissima analisi, pochissimo approfondimento, pochissimo internazionale. Insomma, non mi piacciono i giornali italiani in questo momento e trovo che anche tutti questi ritorni sul logo del diritto sono un po' strani, no? I direttori che ritornano sempre gli stessi. Insomma, è un paese che ha un po' la testa voltata all'indietro rispetto a quello che sta capitando nel mondo dell'editoria. Grazie a tutti.